Non tiriamo a campare, Salvini è diretto a chi gli chiede di un governo di scopo per fare il presidenzialismo. Noi, dice, stiamo raccogliendo le firme per una proposta costituzionale, 100.000 solo nel fine settimana scorso, ma governi alternativi proprio non ne vede e i cosiddetti responsabili li definisce così. Eventuali salvatori di Conte sono poltronari, non responsabili. Diamo alle persone il loro nome. Da potenza a Taranto in quello che chiama giro di ascolto per l'Italia, Salvini torna a parlare anche dei processi del caso Open Arms e uno in arrivo per abuso di ufficio. Lui tira dritto, non mi faccio intimorire, e traccia la strada di un programma comune per tornare con il centrodestra al governo. Così anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, boccia l'ipotesi di un governo di scopo e vede il futuro dell'esecutivo così. Io scommetterei sul fatto che il governo alla fine cadrà...